Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video da Mistons Capitano Ci siamo qua per vedere la mia classifica di serie A Partiamo con le retrocess Per me al ventesimo posto arriva il Lecce Che l'anno scorso si è salvata Però non mi piace quest'anno i suoi acquisti che ha fatto Non mi piacciono Secondo la retrocess Mettiamo il Frosinone Secondo me riandrà in serie B Poi mettiamo la serie all'interno Queste tre cose non mi piacciono Andiamo con le prime sette Settimo posto metto la Ro Al quinto la Lazio Queste due squadre non mi piaccerebbero Ma l'hanno fatto mercato Anche la Roma che ha comprato Renato Sanchez e Paredes Però non mi piacciono Poi quinto posto metto l'Atalanta Secondo me ci sta Poi quattro posto metto la Juve Potrà fare meglio Almeno un Champions League ci arriverà Poi terzo posto Poi terzo posto mettiamo il Milan Squadra che ha fatto tantissimi acquisti E mi piacciono gli acquisti Secondo posto il Napoli Che l'anno scorso ha vinto il sudetto Ha fatto tanti acquisti Però non mi piace tanto E quindi mi piace tanto Però non è all'altezza della prima squadra E che la metto seconda E l'ultima squadra È il L'Inter Che vincerà lo scorretto Perché è fortissimo quest'anno E vincere lo scorretto Ci vediamo al prossimo